Ciao a tutti, oggi volevo proporvi due nuovi modelli che potrete trovare sul sito maxblade.it a dei pezzi eccezionali. Sono due prodotti creati dalla famosa dita che produce coltelli frosmora, coltelli a basso prezzo ma eccezionali per chi incomincia a vivere le prime esperienze nel mondo dell'outdoor. Per l'appunto sono un coltello, il modello è Companion, è un coltello che reputo molto valido come primo amico nelle vostre prime avventure lì dietro. È dotato di una custodia rigida e lavabile, la custodia ha questa clip che reputo ben fatta perché ti permette di attaccarlo alla cintura e staccarlo dalla cintura molto facilmente. Il coltello ha un manico in polimero resistente, antiscivolo e ergonomico. Crea una presa sicura al coltello. La lama invece è un acciaio svedese ad alto tenore di carbonio, quindi molto elastico, ma ha una durezza di 59-60 HRC. Queste due cose combinate permettono di avere una lama adatta anche a usi gravosi. La lama è trattata a specchio, lucida, ed è molto molto affilata quando lo comprate. Vi mostro, io non faccio troppi esperimenti, vi faccio vedere semplicemente quanto taglia. È molto molto tagliente e è pronto all'uso diciamo. Un'altra cosa che volevo mostrarvi, sempre prodotta dalla ditta che mora, è l'acciarino. È un acciarino ben fatto, di grosse dimensioni, quindi questa cosa darà il vantaggio di poterlo sfruttare al massimo nel tempo. Produce molte scintille. Questo significa che vi aiuterà ad accendere un fuoco anche in condizioni un po' più complicate. La cosa bella di questo acciarino è questa palettina. È una palettina con un acciaio un po' più spesso del normale. Ha una presa sicura e forte. Questo è molto utile perché vi dà una mano a creare più scintille rispetto a un acciarino normale. Ve lo consiglio, vi consiglio di fare un giro su questo sito perché troverete molte di queste attrezzature e molti modelli soprattutto nuovi e validi. Bene, per oggi è tutto. Le cose che volevo mostrarvi ve le ho mostrate e alla prossima. Ciao ragazzi! Grazie! 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 Grazie!